segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una volta uscito dalla politica come ha vissuto tutto quello che andava avanti senza di lei l'ultimo atto è stato quello della scissione dal movimento 5 stelle alla luce di quello che è accaduto dopo si è pentito ha pensato che è stato un errore che c'è qualcosa che non avrebbe rifatto no la scissione mi sono affatto pentito soprattutto perché credo sempre delle critiche molto forti verso conte vuole anche oggi non avevo dubbio però eppure conte ha recuperato tanto no con il movimento addirittura in per un certo periodo anche superando il pd sì sì ma su questo non c'è dubbio adesso è in calo diciamo no no ma il tema è questo contesti ha una capacità sicuramente di percepire quello che è il momento storico dove 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 tira il vento del consenso più forte e quindi come dire ha snaturato completamente il movimento 5 stelle nel bene o nel male che è quello al quale io di maio ad altri avevamo contribuito a farlo diventare la prima forza politica del paese ora il movimento 5 stelle rispetto a quella cosa lì non esiste più cioè è tutta un'altra cosa legata semplicemente alla figura di un leader che grazie anche alla popolarità acquisita durante il periodo del covide in cui era presidente del consiglio oggi ha un tema identitario che il reddito cittadinanza alle ultime elezioni se non fosse stato per il voto di alcune regioni ovviamente la media nazionale del movimento 5 stelle sarebbe scesa molto di più e vediamo che però tutti quelli che erano i limiti c'è il mancanza di radicamento la mancanza di un progetto politico chiaro la mancanza di una visione dell'italia sono ancora oggi tutti sul tappeto non è che conte gli ha risolti oltretutto quello che è peggiorato è anche come dire questo continuo cambiamento anche di posizioni che rende il movimento 5 stelle una forza adattabile a qualunque contesto a qualunque situazione ma senza una prospettiva se non è politica nel tempo forte perché inevitabilmente quando non c'è radicamento sul territorio questi sono gli errori che abbiamo fatto anche noi sia chiaro cioè gli errori partono da lontano ma non sono sicuramente cambiati con conte che si muove sull'onda dei sondaggi sull'onda del sentimento del momento e soprattutto su un punto fermo che è il reddito cittadinanza il salario minimo il salario minimo ma soprattutto il reddito cittadinanza perché la differenza se lei ha visto nell'analisi dei sondaggi del voto delle politiche appunto noi abbiamo interi territori come la campagna dove il mio territorio dove il momento 5 stelle è arrivato quasi al 50 per cento ed era ovviamente un vuoto che è stato possibile grazie alla questione del reddito ora che cosa avverrà in questi quattro anni del movimento non lo sappiamo però voglio dire non ha un radicamento né culturale né territoriale da far sperare bene rispetto al futuro di questa forza politica adesso arriviamo alla trascrizione per me però vedo valerio che secondo me vuole fare una domanda sento una forma di agitazione allora ci ha detto che non si è pentito della della scissione sintetico come dire anticipo un pezzo della risposta così facciamo prima uno dei motivi che voi quella sera all'hotel barberini eravamo lì quando ci fu questa scissione poneste sul tavolo per dire serve la scissione semplifico molto era il tema del collocamento internazionale su quello va detto forse ci avevate visto giusto nel senso che sempre più conte ha preso le distanze dal collocamento atlantico dal sostegno all'ucraina eccetera però poi c'è un'altra questione che lì forse nessuno di noi quella sera aveva ben capito e cioè che quell'operazione della scissione come poi in tanti hanno detto è stata una delle se non la principale come dire mina messa sul governo draghi cioè da lì che poi è nata inevitabilmente la crisi del governo draghi non le chiedo se si è pentito o no le chiedo se secondo lei è andata così cioè se davvero quell'episodio è stato in qualche modo magari contro le intenzioni di voi che lo avevate favorito quel quel fatto l'innesco della della crisi che poi c'è stata io penso e no perché credo che conte avesse già deciso indipendentemente dalla scissione che quella legislatura dovesse finire perché conte aveva l'idea chiara che questo avrebbe favorito in qualche modo il suo consenso e quando tutti gli hanno fatto notare che quelle posizioni assunte in quelle ore al senato al movimento cinque stelle avrebbero portato dritto il paese al voto conte non se ne è fatto mistero di dire vabbè se così deve essere così sarà assumendosi che secondo me una responsabilità anzi una irresponsabilità politica in un momento storico come quello di far cadere il governo draghi che se ne pensi del governo draghi in quel momento di far cadere il governo del paese di portare il paese alle elezioni in un momento in cui di tutto avevamo bisogno tranne che di quella instabilità politica di quelle elezioni anticipate per cui ancora una volta è stata fatta una scelta in base a un proprio tornaconto personale e non in base a quello che era l'interesse generale dello stato e credo che se noi fossimo rimasti in partito nulla sarebbe cambiato da quel punto di vista e un giudizio sul pd di schline se posso e un giudizio sul pd di schline se posso